L'iniziativa di molte fedi sotto lo stesso cielo nel contesto culturale della città e direi anche della provincia di Bergamo costituisce ormai una proposta consolidata capace di proporre occasioni di riflessione e di dialogo. Dialogo tra i importanti esponenti che vengono chiamati a presentare le loro riflessioni, le loro testimonianze, le loro idee, ma dialogo anche tra i partecipanti. Chi ha avuto occasione di essere presente in qualcuna delle iniziative ha incontrato che ci sono persone bergamaschi e anche non bergamaschi della città e della provincia che non appartengono tutti alla stessa area culturale e questo evidentemente è un buon esempio per imparare a confrontarsi trovando evidentemente dei riferimenti significativi. L'augurio per i prossimi dieci anni è di continuare a crescere non solo nel coinvolgimento dei nostri concittadini ma anche nella capacità di proporre nuovi protagonismi in modo che anche generazioni nuove che si succederanno nei prossimi anni possono dare il loro contributo di creatività, di confronto, di indicazioni, di speranze.